i nostri piedi che sopportano il peso di tutto il corpo ci permettono la locomozione e fanno davvero un gran lavoro eppure sono la parte meno coccolata del corpo per prenderci cura dei piedi e mantenerli forti e flessibili un massaggio quotidiano di alcuni minuti è una buona cosa da fare in riflessologia una pressione viene applicata ai piedi per aiutare a essere in buona salute perché è necessario massaggiare i piedi ogni sera prima di andare a letto migliora la circolazione questo è particolarmente vero per quelli di noi che lavorano in un ufficio tradizionale e sono sedentari se questo è anche il tuo caso i muscoli dei piedi raramente vengono impiegati in un qualsiasi tipo di esercizio fisico i muscoli dei piedi raramente vengono impiegati in un qualsiasi tipo di esercizio fisico in questo caso un rapido massaggio prima di andare a letto aiuta a migliorare il flusso sanguigno agli arti inferiori oltre a fare un rapido massaggio ai piedi possiamo anche assicurarci di indossare scarpe comode per migliorare la circolazione aiuta a prevenire le lesioni forse ti è successo stiamo camminando come facciamo normalmente un piede davanti all'altro quando all'improvviso prendiamo una storta alla caviglia oppure abbiamo un doloroso crampo un breve massaggio ai piedi ogni sera può aiutare a rafforzare i muscoli del piede e della caviglia e ridurre il rischio di incorrere in questo tipo di improvvise lesioni per avere un ulteriore beneficio ruota lentamente il piede intorno alla caviglia per rilassare e rafforzare i muscoli abbassa la pressione sanguigna oltre a migliorare il flusso sanguigno un breve massaggio ai piedi ogni sera aiuta a contrastare l'aumento della pressione sanguigna le persone a cui viene diagnosticata la pressione sanguigna alta sono in aumento in parte a causa dell'aumento dello stress e di altri fattori ambientali in un promettente studio condotto presso l'università di miami i pazienti affetti da demenza che hanno ricevuto un massaggio plantare di 10 minuti fino a tre volte alla settimana hanno riportato un miglioramento dell'umore e un abbassamento dell'ansia riduce i sintomi di ansia e depressione osservando alcuni degli studi che sono stati fatti sugli effetti della riflessologia sembra che questo tipo di massaggio plantare vada oltre il semplice mettere le persone in uno stato di rilassamento per tutta la durata del massaggio sessioni frequenti di massaggio hanno dimostrato di ridurre significativamente l'ansia nei pazienti oncologici le tecniche possono essere apprese abbastanza rapidamente e possono servire come un modo efficace per affrontare la depressione e l'ansia allevia il mal di testa in uno studio su pazienti affetti da mal di testa ed emicrania la riflessologia e il massaggio plantare hanno contribuito a ridurre i sintomi del mal di testa in danimarca i soggetti hanno addirittura smesso di prendere farmaci per verificare questa ipotesi appena tre mesi dopo aver completato il test il 65 per cento dei pazienti ha riportato una riduzione dei sintomi mentre una piccola percentuale di pazienti ha avuto i propri sintomi alleviati aiuta nella fascite plantare e con i piedi piatti le persone che hanno i piedi piatti alzino la mano non hanno una normale curvatura dei piedi a causa della lassità o debolezza dei legamenti questo spesso non ha molti se non nessuno effetti fisici degni di nota ma alla fine può essere causa di dolori ai piedi inoltre le persone che soffrono di fascite plantare dolore e infiammazione del tessuto del tallone traggono beneficio anche da brevi e frequenti massaggi ai piedi in alcuni casi massaggiare i piedi ogni sera prima di colicarsi può aiutare ad alleviare e in alcuni casi a curare il dolore cronico dovuto a questa condizione allevia i sintomi della sindrome premestruale e della menopausa la maggior parte dei sintomi più comuni ansia affaticamento mal di testa sbalzi d'umore irritabilità tristezza e mal di testa possono essere alleviati con brevi massaggi serali ai piedi i sintomi della menopausa sono generalmente simili e possono anch'essi essere ridotti al minimo con massaggi serali ai piedi riduce gli effetti dell'edema l'edema è un eccesso di liquidi che si concentra nelle cavità e nei tessuti del corpo si tratta di una condizione molto comune durante le ultime fasi della gravidanza gli effetti dell'edema possono essere contrastati da brevi e frequenti massaggi ai piedi va notato che una dieta sana e un adeguato riposo sono lo stesso utili nel ridurre al minimo gli effetti dell'edema migliora l'intimità questo è valido più per gli uomini anche seppure le donne sono invitate a prendere in considerazione questa perla di saggezza un massaggio ai piedi è un semplice altruista e gratuito atto d'amore che può rafforzare il legame tra due persone fisicamente i piedi sono una parte erogena del corpo che può davvero aiutare ad accendere la passione speriamo che questo video abbia fatto luce su come i massaggi ai piedi possano aiutare a rafforzare la nostra salute fisica e mentale prendersi un po di tempo per imparare a prendersi cura dei nostri piedi è sia utile che prezioso se ti piace il video tagli un pollice alto e condividilo con i tuoi amici grazie a tutti grazie a tutti